www.feyyaz.com 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 Ma questa casa! Questa casa non c'è nessuna parola! E i mobili! E tu subito per lì! Tu sei sempre stata una bella donna! La dicendo! Io sono sempre stata piacente! La guaglione, la signorina e la signora! Ma forza! Ma forza! Io sono stata madonna come si deve! Sopatica, attraente, desiderabile! Sì, perché stavo innamorare e te? Scusate! Come vuoi tu! E te la sapete! A presto! Sì, no! Casualmente ho cantata una la sua famiglia! Uno io! Sono stato io! Non lo confessi! Eh sì, lo confesso, vostro onore! Ma è stata una distrazione! Ti sei scordato? L'hai scassata tu quando stavo nelle crisi? Tutto quanto? Tutto quanto? E tu sei tutta una distrazione, Amedeo! Ma no! Che c'è? Aspetta! Come ti chiamate? Come ti chiamate? Amedeo! Beh! E tu a tutti? Cazzo! E che faccio? Ma roba rata, guanda! Preoccupazioni, pensieri, tormenti! Tu direi tormento? Ma come ti ha scelto? Come non beh! Ti facciamo vicino? I tuoi ciclo! È una logica di nuova scania, no? E così? Avete fatto una domanda di ricovero nella nostra clinica privata! Sì! Bravo! Grazie! Bene! Non c'è di che! Avete fatto una grande scelta! Easy for one e seconda tutti i guai mio, eh! Bull in the wire! Certamente! Come a graviter essere? Più ne c'è disgraziato! Non fa farci la terra! E va sbagliato! Il fatto è che non sapete dove... Ma cosa sapete? L'ampagana fa! Piuttosto vi accorgerete della differenza tra la nostra clinica e le altre strutture! Volete mettere il servizio che offriamo noi con quello che vi darebbe un ospedale pubblico? Volete mettere? Voleremo mettere? Non lo so, lo dobbiamo mettere! Come minimo! E' vero, mio marino mi ha lasciato! Però il nostro è stato un matrimonio d'amore! E' d'amore! Però non ce l'ho sulla vista degli occhi! Eh, guanda! Ti dai miei dormietti! Dai da lì l'interiore e dai miei dormietti! E che fin'altro? Oh! I miei genitori sono dolorosamente scomparsi! E io sono già schiappato!